Premiare istituzioni di imprenditori che si sono distinti nel campo della sostenibilità ambientale, così come i comunicatori di questo settore, giornalisti e fotografi che si sono impegnati in ambito ambientale per la tutela del territorio e lo sviluppo dell'agroalimentare. Questa è la principale finalità del premio Green Ribbon, organizzato dall'Argalam, il gruppo di specializzazione della FNSI che si occupa appunto di questi settori e che ha visto la premiazione della sua prima edizione il 21 novembre a Roma, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa. Premiato anche il fotoreporter Michele Vacchiano per la sua capacità di coniugare l'arte fotografica con la comunicazione del territorio, riuscendo a trasformare la sua passione in impegno a difesa dell'ecosistema, avvalendosi adesso anche di tutte le opportunità offerte dal web. Grazie a tutti. Grazie a tutti.